Arriviamo a questa finale consapevoli perché quando puoi giocare una partita così hai fatto un cammino che ti ha lasciato qualcosa. Siamo anche tessi, però è normale dato che si tratta di una finale. Abbiamo fatto tanti sacrifici per essere qui ed è giusto avere quell'emozione che ti permette di fare grandi cose. Murigno, unico, ci ha forgiato il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini parla così alla vigilia della finale di Europa League con il Sevilla. È una gara diversa dalle altre e noi l'abbiamo preparata al meglio. Sottolinea il difensore Gianluca Manzini. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!